lo flanco tutti in quel corridoio sboccherò io dall'altra parte sboccherò io dall'altra parte l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho preso no ma preso ma preso madonna e kill on fire attenzione quello stronto che l'ho ucciso ok e mo ok c'è un altro pc è andato 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 sono io in fondo sono io in fondo arriva è andato balla lì bravo e kill 90 mio un minuto un attimo ma che ma preso dove lo schifo l'ho preso 9 it quanto può far schifo sta persona e la dell'angolino dio caro codardo io ho capito che la glock fa veramente cagare fa un casino di danni non vanno giù e anche dove devi sparare ma cazzo ma l'ho fatto 9 it è andato bella lì è chi sta facendo un po' più è la 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 occhio uno è andato due andati fa chi era figli di puttana e due si tutte e due andate tutte e due andate sono tutti e due andati e ho fatto anche una missione secondaria no è che non male stasera no no oggi non è che non si fotte dietro dietro lo pusho dietro io sto morendo non scusa